Sono Marcella Laurita, faccio parte dei Cavalieri dell'ITR Tarantine e sono circa 14 anni che mi occupo di rivocazione e brindisi montagna e una scoperta ogni anno. Sono emozioni, un luogo intriso di storia, ma anche il rapporto con il pubblico che si instaura è qualcosa di inspiegabile. Consiglio a tutti di visitare questa manifestazione e godere di tutto quello che offre questo bellissimo paese. Sono Gino D'Angelo e partecipo di nuovo quest'anno a questa meravigliosa manifestazione dopo averci partecipato negli anni scorsi più volte ed è sempre una manifestazione molto coinvolgente. È sempre una grande emozione partecipare a questa bella manifestazione che si svolge qui a Brindisi in montagna. di Carlo D'Angelo, questo è il mio ruolo durante le giornate medievali e sono emozionato per questo ruolo perché la mia passione è fare rievocazioni storiche. Sono ben 17 anni che faccio rievocazioni e quindi continuerò a farle. Ormai è un appuntamento che si ripete ogni anno da ben 17 anni e continuerò a ripetere questo ruolo per tanto tempo. Sono Giuseppe Rosario Messina, appartengo all'Associazione Artisti e Mercanti del Conte Ruggero e sono sei anni che partecipo alle giornate medievali nella figura del Vescovo e ogni volta è un'esperienza interessante in quanto mi permette di approfondire con maggior attenzione il campo della tortura.